Pace e bene. Sono fratezio dell'antica farmacia Sant'Anna e oggi vi voglio raccontare il segreto dei frati che si portano avanti da millenni. Il minimalismo. Abbiamo troppe cose, facciamo tante cose, siamo sempre di corsa e non riusciamo a fare bene tutto quello che vogliamo e allora è importante concentrarsi su ciò che è necessario, rimuovere il superfluo e ricercare la gratificazione, la giusta gratificazione. Intanto è importante concentrarsi sul perché. Perché faccio una cosa, perché compriamo una cosa, perché viviamo in un certo modo, altrimenti andiamo avanti un po' per inerzia e rischiamo di evitare di fare le cose che ci piacciono per perdere del tempo con cose che invece ci danno solo tensione nervosa e ansia. Quindi tutte le volte che siamo chiamati a, per esempio, prendere una decisione, comprare qualcosa, domandiamoci il perché, il motivo per cui io faccio questa cosa, compro quest'altra cosa. Qualche volta bisogna essere giocosi un po' come i bambini. Ogni tanto è bello dare ascolto al bambino che è in noi, fare qualcosa che con il senno dell'adulto non faremmo, però al di là di tutto è una cosa che ci rende vivi e ci fa piacere. Un'altra cosa è la regola del 20-20. Cos'è questa regola del 20-20? È molto semplice. Vogliamo comprare una cosa, perché magari l'abbiamo vista su internet o l'abbiamo vista in una vetrina e non siamo usciti pensando di comprare questa cosa o non siamo andati su un sito pensando di comprare quella cosa? Allora chiediamoci se quella cosa possiamo comprarla in meno di 20 minuti con meno di 20 euro. Se la risposta è sì, non compriamola. Aspettiamola a comprare quando ci serve e vedrete che tante cose inutili resteranno non comprate. Poi fare una cosa alla volta. Se ci concentriamo veramente su una cosa, facciamo molto meno fatica. Eliminiamo le distrazioni e togliamo il superfluo. Tutto quanto non ha a che fare con il nostro obiettivo va messo da parte, perché è solo una distrazione che ci stanca, non ci fa fare le cose che vorremmo e ci rende molto insicuri, diciamo. Se noi ogni settimana riuscissimo a togliere una distrazione, non so, un giochino dal telefonino, un programma che ormai guardiamo per abitudine o una routine che facciamo ma che non veramente ci dà gioia e ci serve, in un anno riusciremo a togliere 50 cose inutili e avremo un sacco di tempo per fare le cose che realmente ci servono. E poi prendiamo le cose con calma, facciamo bene quello che vogliamo fare, non sempre di corsa, ma con calma, con serenità. Il mondo va avanti con o senza di noi e quindi possiamo fare tante cose belle, ma con calma, cercando di vivere la giornata, non arrivando la sera avendo fatto tante cose ma poi non avendo vissuto. E poi guardiamo se stessi, ognuno guardi se stesso. Non importa se l'altro ha la macchina più bella, il telefonino più bello, il vestito più costoso, l'ultima moda o quello che viaggia chissà dove. E allora questo non significa che una persona sia felice. Ci sono persone felici in condizioni molto meno agiate, in condizioni molto drammatiche. Se guardiamo quello che ci resta, quando abbiamo levato tutto quello che non ha un perché, allora restiamo solo con quello che ci piace, con quello che veramente fa parte di noi. E si può essere più felici in questo modo? Minimalismo non è avere poco, è anche avere poco, ma per esempio molto spesso noi abbiamo un guardaroba enorme, usiamo normalmente, non so, al 20 il 30% dei vestiti che ci piacciono, il restante 70-80% lo mettiamo ogni tanto perché ce l'abbiamo, ma attualmente non spenderemo un euro per comprarlo. E quindi ci riempie solo gli armadi, regaliamoli, diamoli ai poveri, buttiamoli se sono logori. Un'altra cosa importante è che costa più tenere le cose che darle via. Può sembrare strano, ma molto spesso avendo tante cose, queste cose ci disturbano, queste cose ci fanno perdere tempo, abbiamo il tavolo pieno di cose che cadono, le raccogliamo, si riempiono di polvere e quindi eliminiamo ciò che non aggiunge valore alla nostra vita. Facciamo spazio, facciamo pulizia in ogni area della nostra vita, quindi nello spazio fisico, nello spazio mentale e anche nello spazio digitale. Quante cose inutili abbiamo e non sappiamo neanche, quando dobbiamo cercare una foto che ci interessa non la troviamo perché ne abbiamo centinaia e centinaia che non abbiamo eliminato quando potevamo farlo e adesso non riusciamo più a trovare quello che veramente ci serve. Un'altra cosa, non so se lo sapevate, ma tanto meno oggetti si hanno vicino a letto, tanto più si dorme meglio. Un'altra cosa, non tanto la qualità, cioè più tanto la qualità e non la quantità. Quindi ad esempio anche nei vestiti, non sto dicendo qualità nel senso di vestiti costosi o di marca, ma piuttosto teniamo un capo in cotone piuttosto che in poliestere, cose di questo tipo, facciamo attenzione a cose importanti nella nostra vita. Non sentiamoci in colpa. Se dobbiamo buttare via qualcosa che ci ha regalato una persona a cui vogliamo bene, ma questa persona vuole che noi stiamo bene, se questa cosa ci distrae, se questa cosa ci fa perdere tempo, se questa cosa non ci fa stare bene, la stessa persona che ci vuole bene è contenta che noi ce ne liberiamo. Non è un essere poco attenti al suo regalo, ma è semplicemente che noi stiamo meglio senza tutti quegli oggetti inutili che ci riempiono i cassetti della nostra casa. Poi oltre alla regola del 20-20 che vi ho detto prima, c'è anche la regola del 90-90, a parte il discorso stagionale. Se abbiamo qualcosa che sono 90 giorni, tre mesi che non utilizziamo e valutiamo che nei prossimi 90 giorni, nei prossimi tre mesi non la utilizziamo, liberiamocene. Regaliamola, buttiamola via, perché riempie inutilmente la nostra casa. Ma poi soprattutto siamo grati di quello che abbiamo, non cerchiamo altre cose. Molto spesso perdiamo i momenti piacevoli, molto semplici, perché siamo proiettati in chissà quale cose. Ecco, queste sono alcune regole. Il minimalismo, fare spazio nella nostra vita per avere le cose veramente importanti che ci fanno felici e staremo bene. Dio vi benedica. Grazie.